Questa sera siamo qui riuniti in occasione della celebrazione, se così vogliamo, di una bella iniziativa curata da Don Fernando Bellelli e pubblicata nel numero di Divus Thomas, che trovate anche fuori, numero intitolato Tommaso e Rosmini, il sapere dell'uomo e di Dio fra due epoche. Secondo una caratteristica che è domenicana e dovrebbe essere domenicana, per parafrasare Sant'Alberto Magno, non c'è niente di più bello che cercare la verità in dulcedine societatis, cioè nella dolcezza dello stare assieme. Ed è un po' dalla freschezza e intelligenza di alcuni legami che mi sono stati donati, proprio a livello biografico, che è nata l'idea di questo volume. Innanzitutto sicuramente l'amicizia con Don Fernando, che si occupa molto attentamente di Rosmini, e poi ricordo anche l'insegnamento all'alma mater a Bologna, il professor Malaguti, che per primo negli anni universitari mi parlò del Rosmini. Dico questo perché ambientalmente lo studio filosofico di Bologna non ha mai riservato tanta attenzione a Rosmini. Quindi questa è anche in qualche modo una novità, una novità resa possibile da uno stile differente che ha maturato negli ultimi anni, da sicuramente dalla nota della congregazione della dottrina della fede del 2001, che ha specificato come alcune interpretazioni contrarie alla fede che sono state date da Rosmini non hanno luogo di esistere, e hanno permesso appunto di pubblicare questo volume nel quale personalmente come direttore della rivista ho creduto e ho anche investito parecchio come almeno aspettative, desideri e soprattutto attese di quello che ne seguirà. Molto molto brevemente alcune di queste aspettative che penso ci aiutino a non fare di Tommaso e di San Tommaso e del Beato Rosmini due statue da tenere alle nostre spalle come protettori ma poco fecondi per il futuro. Cioè la prima aspettativa è che questi due compagni di strada possano aiutarci ad affrontare il problema contemporaneo. Siamo nel bel mezzo di una crisi non solo economica ma proprio di sistema. Quello che erano tante certezze, comprese la centralità del soggetto, sono state, come si dice, messe profondamente in crisi. Quindi il pensiero cosiddetto postmoderno ci ripete ogni giorno che non solo è morto Dio ma è morto pure l'uomo. Quindi noi saremmo una sorta di fantasmi. E questo nichilismo brutto e terribile potrebbe impressionarci. Ebbene, no. A mio parere può essere letto come un kairos interessante che pone fine ad una visione del pensiero che emargina tutto ciò che Cristiano è rivelato a un vecchio mito del passato e permette la rilettura di quella che, se voi sfogliate il volume, ritorna come triade significativa, cioè Agostino, Tommaso e Rosmini, proprio come base per un pensiero che si voglia autenticamente protagonista della postmodernità. Perché una differenza sulla quale sto lavorando è questa. Un conto del postmoderno, come affermazione o tardo moderna, della bancarotta di certo pensiero immanentista e secolarizzato, e dall'altro la possibilità di un'autentica postmodernità che esca dalle nebbie, dalle paludi dell'immanenza, che esca dalla pregiudiziale secolarista, si apra intelligentemente e liberamente alla rivelazione, attinga da essa una nuova forza filosofica per risollevare un pochino l'Occidente e possibilmente per lasciare a coloro che delle tanto decantate altre culture ci conoscono il meglio e non il peggio. Ok? Benissimo. Allora, questo è un po' l'auspicio che sta dietro un volume come questo. Brevissima nota conclusiva. Una cosa che mi è piaciuta studiando un po' Rosmini in questo periodo è questa. sapere che il primo manuale che sembra abbia studiato era relativo a Kant e con questo il giovane Rosmini, con il suo anche maestro, sacerdote, si trovava un po' alle strette e litigava un po'. Poi, andando a teologia a Padova, ebbe come insegnante di dogmatica, i corsi fondamentali, un Domenicano, Nomen Omen, perché? Tommaso Tommasoni, più Domenicano di lui, insomma, non si poteva fare. E sembra che, insomma, questo padre l'habe introdotto ad una sana teologia, come si diceva una volta. Bene, questi sono solo elementi per creare un clima di simpatia reciproca, una nouvelle alliance, perché si possa, appunto, entrare in questa postmodernità che, ripeto, ci sta davanti, non la stiamo vivendo, ma ci sta davanti, e che può essere, appunto, alimentata dai nostri grandi padri e maestri. Lascio la parola al professor Giuseppe Barzaghi e poi seguirà l'intervento del padre Umberto Muratore. Grazie. 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 Grazie.